signore e signori ladies and gentlemen nello studio dell'ora solare quel gigante non solo perché grande e alto e sembra così piccola la nostra poltroncina verde alessandro benvenuti grazie buonasera buonasera ben trovato è comodo sono comodo parzialmente comodo come era la scena delle braccia l'alternativa è o questo o questa o questo così tenterò di essere così un po più elegante perché perché dunque poco fa dico chiedo ad alessandro benvenuti posso darti del tu e lui mi risponde sì certo tanto poi te lo rendo ecco fantastico e allora posso dargli nel tu tanto mi torna mi torna indietro allora è un grande attore lo possiamo dire nonché un grande regista che assumi la responsabilità di quello che mi assumo la responsabilità grazie sei gentile passione passione per questo lavoro poco fa dicevo passione per per le persone care amiche e che non vuole essere fare un contorno di lampadine intorno però una una persona per bene che sa fare da tanti anni benissimo il proprio lavoro ti va bene come definizione beh diciamo seguito l'orme della famiglia sono sono delle cose un atteggiamento verso la vita che lo impari stando in stand in casa stando con la tua famiglia che famiglia che famiglia no famiglia normalissima però di persone tu qui sei quello automaticamente più alto io sono quello più alto sì sì quello già già allungagnone disegnai da solo quella specie di cappottino un po alla beatles sì 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 bello anche le basettone devo dire però rendevano anche quelle mi disegnai da solo anche quelle ti hai disegnato e quindi insomma una una famiglia una famiglia una famiglia normale ma insomma di gente molto simpatica con una madre piena e creativa quasi quasi una psicologa senza esserlo una capace di ascoltare le amiche anzi quelle figliole anche se avevano 70 anni poi alla fine ma rimanevano tutte figliole certo un padre un turbolento molto sanguigno quindi insomma un accorzamento perfetto lei addolciva lui lui si faceva dolci da lei va diciamo ecco e qui insomma diciamo che lì impari delle cose normali e che servono poi se le mantieni nella vita a rimane con i piedi sulla terra pur avendo la testa tra le nuvole perché perché questo è l'attore un robusto 46 di piede adesso veramente non stiamo dando le misure la taglia di alessandro benvenuti tra un po' vedo anche l'iban non ho capito scusa no però no eh ragazzi no e no e no e scusa ora appena dico una cosa mi parte un applauso io non si può montare la testa ti aspettavamo ah sì ma che carini credimi te aspettavamo questa questa fotografia è un grande salto già in avanti no perché in realtà siamo partiti dal dall'amore per il teatro in parrocchia sì 14 anni debuttai nella parte di un nonno insomma l'ha presi subito difficile no no poi poi a 16 18 anni cantante in un gruppo di rock e ritmo in blues una band di allora che si chiamava la vercingetorige six company no scusate no vabbè un applauso anche al no allora il titolo ma la vercingetorige ma come vi è venuto in mente il gallo che resisteva agli assalti dell'impero romano eravamo già molto motivati nel resistere a qualcosa a qualunque cosa ma nel resistere meno male non è partito l'applauso se no io ma non gli dovete dar retta allora l'avevo detto sono forse nata alle spalle quindi qui sei nel gruppo vercingetto no no qui debutto da solo come folk singer un concerto meraviglioso nel val d'arno val d'arno contro contro tutto contro tutto io li debuttai avevo scritto due canzoni la cosa bella è che qui sto leggendo lo si capisce dall'atteggiamento dell'occhio il testo che ho nella custodia della chitarra di una canzone che si intitolava ei gente fine alla fine della della interpretazione di questa canzone uno del pubblico mi chiese il testo è bellissimo c'è mi regali te certo in uno slancio d'altruismo glielo regalai ecco quella è stata l'unica volta che l'ho cantata perché non l'avevo imparata a memoria e non avevo neanche fatto una brutta copia in serio questa è proprio di fronte a 20 mila persone però una volta sola l'ho cantata sì perché gli hai detto il testo è meraviglioso all'epoca non c'era il computer no carte e penna per cui non avevi salvato no perché non pensavo che un bischero mi chiedesse il testo io più bischero a dargli l'unico che ci avevo insomma alessandro benvenuti la meraviglia la meraviglia tanto che quando arriva il momento dei gian cattivi e arriva il momento in cui la televisione non come elettrodomestico ma come persone faceva i giri per i teatri andava a cercarli andava a caparli si direbbe a Roma no quelli bravi da portare in televisione è vero che la prima risposta fu tanto no a noi non interessa andare in televisione sì perché io non avevo la televisione in casa avevo i giradischi e quindi ascoltavo musica dalla mattina alla sera non proprio tra l'altro un single vivevo da soli in una meravigliosa casa nel centro di firenza aperta tutta la notte a tutte le anime che volessero venire a farmi compagnia certo sperando che qualcuna fosse femminile insomma non è roba così in qualche modo per cui quando ci dissero che c'era quando ci vennero a vederci a Milano perché in un teatro di Milano Mario Luzzato Fesic fece sul colore della sera una bellissima recensione sul nostro spettacolo e quindi arrivarono Bruno Voglino da Roma insomma quelli grossi di allora ci convocarono perché ci hanno detto che voi siete così allora venne trapani il signor trapani e testa gli autori vennero a vederci e ci dissero noi sarete la nuova smorfia i nuovi gatti e noi neanche cioè i gatti li conoscevamo perché ci avevamo lavorato la smorfia non la conoscevamo ancora e quindi ci dice vi interessa no noi facciamo teatro per cui non ci interessa grazie e questi rimasero basiti vabbè l'incoscienza di chi era fuori dal mondo l'ho detto piedi per terra testa tra parecchio alte le nuvole non quelle basse però credo che questo interessò doppiamente perché non c'era c'era un altro attore che faceva questo programma massimo de rossi che noi avevamo programmato nel nostro teatro fiorentino che era un teatro specializzato nella nuova satira si chiamava humor side oggi si chiama teatro di rifredi e lui era uno dei nostri idoli per cui dicevo se lo fa massimo de rossi si può allora lo facciamo anche noi pensate si può fare il terzo dei gian cattivi di allora tonino catalano bravissimo ci disse no a me non interessa fare televisione perché eravamo te l'ho detto proprio fuori dal mondo allora ci fece di contratto in a due ad atina e a me e parliamo di atina cenci qua ce lo fai fare un grande applauso un applauso con lancio di baci con lancio di baci a questa formidabile ragazza a tina a tina cenci detta anche l'uomo di gruppo che era lei che insomma capite quella con le spalle larghe brava le spalle sì pensavo però va bene anche lassù no no va bene quindi praticamente noi si rimasi in due e io cominciai a scrivere sketch in due se non che un funzionario dell'arci regionale toscano di firenze perché non andate a vedere sto ragazzino pratese c'è una festa dell'unità che poi somiglia molto a tonino catalano ti andiamo a vedere dico tanto che ci abbiamo da perdere e lì si conobbe francesco e lo e lo pigliamo nel gruppo perché era bravo perché era poi quello che insieme a noi ma soprattutto anche più di noi ci aiutò proprio con questa sua feroce volontà di successo che noi non avevamo ma non per snobismo perché non davamo così tanta importanza alla televisione no per noi era una roba normale un lavoro ma non così importante mentre francesco era determinatissima devo dire che la sua determinazione oltre alla sua faccia fantastica che bucava lo schermo devo dire che ci aiuto molto a fare successo ma la prima cosa che noi abbiamo fatto con francesco fu la trasmissione non sto mai fatto una cosa insieme per i ragazzi che ci stanno seguendo andate a vedere non stop quando volete vedere la la risata intelligente ma l'inizio della nuova l'inizio della della nuova quella che è tuttora c'è in televisione l'inizio della della nuova comicità in italia fu un'idea di enzo trapani se non è un'idea nostra noi sono stati siete stati straordinari io io volo volo un po un po lontana io ti seguo lui mi segue e sino tanto tutte le cose che dovevo dirgli le ho dette prima però le ripeto nel finale perché no le ripetono il finale perché così avete modo anche voi di inquadrarlo ancora meglio non c'è bisogno di inquadrare l'alessandro benvenuti però alessandro lo ripeto è un galantuomo è stato garantuomo nell'amicizia lo è ancora quando gli amici hanno problemi difficoltà necessità io dico quello che si sa di te che tu ci sei sempre sì no no sempre 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 onestamente no infatti qualche volta un sai ci sono poche anche per ci sono stato poco anche per la mia famiglia con il mestiere che si fa per cui insomma non sei ubiquo è no non piacerebbe tanto ma non ce la faccio fisica era una questione di cuore una questione di dire diciamo che comunque anch'io qualche cosa l'ho persa perché il tempo non è un elastico insomma è quello per cui se devi fare delle cose altre però però diciamo che il prossimo mi interessa assai ecco oltre il prossimo tu sei in una sorta di quadrato militare con moglie e figlie sì tu sei un sono assediato sei assediato sei un donna in casa quattro donne in casa quadrato militare lo ripeto ma va bene perché mi sono arreso subito quanto è bello guardate la pepella questa fotografia dunque quanto è bello essere marito e papà e uomo coccolato e uomo l'uomo che è punto di riferimento per le tue ragazze perché tu sei punto di riferimento per tutte loro beh diciamo che c'è una certa ironia sanno che possono contare su di me che sono stato molto assente ma non di cuore sono stato assente di di fisico perché siamo fuori però c'è molta franchezza tra di noi e quindi insomma un rapporto decisamente divertente anche perché la pazza della famiglia comunque mia moglie per cui voglio dire lei sai ci ha messo tanto dna anche nelle figlie qualcuno ha preso da me qualcuno ha preso da lei diciamo che non hanno preso tutto il bello dei nostri caratteri però quel quel poco quel poco di 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 bello di ironico che che hanno preso insomma ci aiuta essere una famiglia capace di ridere nel momento in cui dramma sembra irrisolvibile e quindi stare uniti permette di risolvere qualsiasi problema benvenuti in casa gori è andato avanti per 33 anni in teatro cioè tu hai hai fatto una sorta di record statunitense all'americana no quelle cose quelle commedie che tu vedi andare con una mi è stato detto dalla nostra loredana giglia tua tra tutti noi fedelissima spettatrice con una bravura che di volta in volta cresceva si moltiplicava diventava sempre più forte sempre più grande finché tu hai detto basta signori ultima recita finisce qui perché sì no cioè nel senso come come delton john che ha cominciato il tour di addio che durerà tre anni per dire quello si capisce se c'è un tour da dio se un modo per fare ancora più soldi no nel senso io lo faccio da 33 anni è una trilogia sono spettacoli pesantissimi perché questo benvenuti in casa gori sono 10 personaggi è una commedia fatta da uno solo un uomo solo ritorno a casa gori sono 42 personaggi quindi 42 voci a dio gori sono 36 voci per cui insomma a una certa ti manca il fiato come si potrebbe mia moglie mi impedisce di fare perché mi vuole ancora bene vorrebbe che non morissi anzitempo per cui mi impedisce diciamo di fare per esempio ritorno in casa gori a dio gori che sono pesantissime benvenuti in casa gori lo faccia ancora perché quello più conosciuto quello più famoso però ecco alle 10 voci ti è concesso alle 10 voci sì 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 alle 10 voci sì mi è concesso si può fare e il chi è di scena l'ultima volta siamo stati in scena ad aprile ma si riprende chi è di scena sì sì certo certo lo riprendiamo a Torbella Monaca l'anno scorso l'anno prossimo questo è tutto Shakespeare in 90 minuti tutto Shakespeare in 90 minuti tutto eh tutto tutto in 90 minuti tutto una partita di calcio senza supplementari però senza supplementari invece i supplementari lui li fa ma qualora si possano immaginare come supplementari ma quei supplementari che ti fanno vincere il campionato del mondo con i delitti del barlume sì dove sei essenziale nel gruppo essenziale fondamentale siamo una bella chimica diciamo Lucia Mascine è stata nostra ospite qualche tempo fa beh guarda è una bella atmosfera ci tocca purtroppo andare a lavorare all'isola d'Elba d'estate che è una sfortuna terribile sono problemi io guarda proprio una cosa guardate un applauso di sostegno a questo momento di difficoltà no è veramente tosta sì vabbè vabbè voi applaudite ma non potete capire il caldo non potete capire il mare poi quanto è bagnata in mare che è una roba proprio quasi azzurro poi sa quell'umido proprio azzurro proprio se azzurro poi c'è lo punto anche agli occhi si ti dà fastidio diciamo la verità senti meraviglia Alessandro benvenuti ah io meraviglia sempre tu meraviglia grande donna qual è la più bella ora solare della tua vita io sintetizzo così per ora solare intendo dire proprio quando è il momento in cui tu ti senti felice guarda è già un miracolo capire che sei felice in quel momento diciamo che io voltandomi indietro so di aver avuto degli attimi di felicità pura ma sono cose che sono durate quattro secondi tre se tutto va bene però poi sono quelle cose che ricordandoti tu dici ti viene il sorriso allora diciamo che è come dire è una sorta di ereditarietà della felicità che in qualche modo è importante avere cioè quegli attimi di pura felicità proprio cristallini proprio di quelli che a ripensarci ti viene il buco allo stomaco perché uno pensa torneranno non torneranno però sono diciamo così un pozzo dal quale tu ricavi proprio la speranza che tu sei stato felice ma in maniera proprio fanciullesca e quindi ti senti proprio addosso il dolore quasi della felicità perché dice tornerà e lì c'è il dolore della felicità però allo stesso tempo la consapevolezza di esserti accorto che hai vissuto degli attimi di vera felicità questa cosa è bella perché per il resto poi sai la felicità insomma è una roba che a volte è una bugia voglio dire ci può essere un po' di benessere ci può essere un po' di tranquillità ci può essere contento perché la squadra del cuore ha vinto il campionato ha vinto una coppa però la felicità è un'altra cosa però la tua definizione è cristallina quell'istante proprio si degli attimi proprio precisi cristallini allora questo è un attimo cristallino per me che prendo il tu lo restituisco ad Alessandro Benvenuti al quale dando del voi dico voi siete una persona meravigliosa signor Benvenuti grazie di essere stato all'ora solare grazie, grazie, grazie ci vediamo tra un attimo applausi, applausi, applausi applausi grazie